Ad Alessio Albi, qua presente in carne e ossa e ci dicono più alto di quello che sembra in fotografia quando si alza in piedi, se stai accanto lo vedi, prima eravamo al bar e gli ho chiesto in camera caritatis potresti per favore tirartela un pochino? Perché? Perché poteva essere funzionale. Quindi, se dovesse, chiacchierando, tirarselo un pochino è perché gli ho chiesto espressamente di farlo, che tanto non ci riesce. Se non lo fa è riprova del fatto che è una persona genuina. Una persona genuina, in ambito fotografico, laddove, e lo sapete, è il tema di queste serate, stiamo cercando di indagare un mattoncino alla volta, un'esperienza alla volta, un vissuto alla volta, quale caspita di elementi concomitanti producono un effetto positivo. Dicevo, un animo sincero e spontaneo, è bello averlo perché nell'apparenza, che spesso la rete aiuta a utilizzare per farsi badare, un'esperienza viva e reale è vitalizzante. Alessio è giovane, relativamente giovane, non è un infant prodigio, mi diceva di conoscere un fotografo di 17 anni, come si chiama? È un po' impronunciabile, si chiama David Uzociukwu, in realtà non so neanche se questa è la pronuncia, ma non credo che neanche sappia pronunciarlo lui. A 17 anni compie meraviglie. A noi interessa capire se in un'età normale le meraviglie che si compiono adesso sono compibili e trasmissibili di persona in persona. Uno degli attacchi, fra virgolette, che viene fatto al lavoro di persone come Alessio, che sono necessariamente, essendo visibili in rete, o amate o odiate, uno degli attacchi, fra virgolette, cioè una delle constatazioni è ma tu nel produrre cose per le quali hai trovato uno stile che poi riproponi ad altri, favorisci il generarsi di memi fotografici, di cloni, di stili e semantici e stilistici e di postproduzione che poi vengono copiati da altri che si fanno plagiare volutamente con questo generando ondate di cose simili fra loro. E quando anche fosse, mi viene da dire, cioè se questa cosa rappresenta elemento fondante, che fa parte dell'attuale fotografia e l'attuale fotografia necessariamente, perché vive in il mondo che viviamo, produce non solamente ispirazione, ma ispirazione clonata, quando anche fosse, qual è il problema? Allora, già che la filosofia un tempo era una materia scientifica, poi si è scoperto con l'illuminismo che c'erano altre cose da sapere e la filosofia a poco serviva, tuttavia la filosofia non è affossata, si scrivono trattati di filosofia, ci sono catted e insegnamenti di filosofia, persone studiano, lavorano con la filosofia ed è quello che è diventato. Se la fotografia fosse diventata l'equivalente della filosofia e cioè in qualche maniera basta a se stessa, cioè permette di parlare su se stessa e questo parlare genera la vita attuale della fotografia, boh, sarebbe carino indagare anche su questo. In realtà nessuna delle cose che ho detto attiene ai temi di cui Alessio parla, ma avevo promesso che avrei fatto da tappobuchi per gli ultimi minuti quando stavano arrivando le persone e tanto ho fatto. Adesso tocca a te però. Vai. Intanto grazie per l'opportunità, ovviamente che mi sembra abbastanza ancora strano essere qua perché sono abbastanza nuovo al settore e non è per me una situazione normale essere qui davanti a un sacco di persone che ascoltano quello che ho da dire sulla mia fotografia visto che più o meno ho iniziato nel 2010, quindi ormai sono sei anni. Mi faceva comodo finché continuavo a dire sono quattro anni, sono tre anni perché è poco. Adesso sento che comincia a diventare abbastanza più pesante la cosa, per quanto ancora è nuova. Farò scorrere in slide le immagini così magari per chi non le conosce sappiamo anche di che stiamo parlando. oppure mi danno la possibilità se non avete voglia di ascoltare quello che dico, di guardare qualcosa. Quello che appunto dicevamo prima con Roberto è fare una piccola introduzione su chi sono, da dove vengo e come sono arrivato qua a livello di vita. La mia formazione è totalmente al di fuori del campo artistico, almeno dal punto di vista accademico perché sono un biologo, sono laureato nel 2011 in Biotecnologie Mediche che è una laurea in tre facoltà fra Biologia e Medicina a Perugia. Praticamente questo percorso a livello fotografico, come ho detto ho iniziato sei anni fa mi trovavo più o meno nell'ultimo anno di università. Diciamo che il primo periodo è stato molto molto semplice, era semplicemente una passione nata dall'ambiente che frequentavo, conoscevo persone, la storia è abbastanza particolare e a tratti imbarazzante, però conoscevo persone che appunto mi portavano sempre più vicino sia al campo artistico che fotografico nello specifico. In realtà nonostante studiassi Biotecnologie e Medicina e successivamente mi fossi comunque indirizzato verso una carriera di tipo diverso, ovvero quella del nutrizionista sono ancora un biologo nutrizionista per quanto la fotografia adesso ha assunto un ruolo preponderante diciamo sei anni fa è iniziato il cambio, no il cambio è iniziato un anno fa però dal punto di vista professionale ma la nascita della passione per la fotografia risale sei anni fa quando appunto conoscendo una ragazza questa ragazza, diciamo conoscendo anche lei la mia passione per le arti visive quali il disegno e la pittura io dipingevo e disegnavo con scarsi risultati questa ragazza, lei iniziava ad approcciare anche essa al mezzo fotografico mi ha consigliato di provare a diciamo cominciare a fare qualche foto ho cominciato con la mia piccola compattina facevo le foto alle vacanze ai tramonti, alle formiche ai cararmatini del risico però per il resto fondamentalmente era per me un gioco piano piano crescendo ho iniziato ad approcciare la fotografia al di fuori del contesto del ritratto che poi attualmente è quello che mi caratterizza di più ho cominciato i primi due anni a seguire chiaramente tutti i mostri sacri nel campo del reportage quindi dai vari Enricardi e Bresson altri appunto mostri sacri nel campo del reportage e del documentario mi sono fatto diversi viaggi in questo senso niente ovviamente sul campo di guerra o comunque niente di particolarmente impegnativo però l'approccio iniziale era comunque una passione che nasceva nei confronti della fotografia in senso in senso abbastanza generale non c'era una una predisposizione verso il ritratto per quanto io venissi da una una passione per il ritratto in termini di disegno e di pittura quello che caratterizzava il disegno e la pittura prima perché non riuscivo a disegnare le donne non ci riuscivo, è una cosa che non mi riusciva assolutamente sia dal punto di vista tecnico che da quello dell'approccio perché ero anche una persona molto timida, molto chiusa avevo grosse difficoltà ad aprirmi col sesso femminile in molti sensi e quello che invece appunto con la fotografia mi ha permesso è di esplorare anche nuovi percorsi dal punto di vista sia umano che specifico appunto dal punto di vista tecnico piano piano circa nel 2013 ho cominciato a provare i primi ritratti ho cominciato a provare i primi ritratti in termini di ok, prendevo la mia amica le facevo una marea di foto inizialmente ovviamente orribili loro si prestavano e questo mi ha permesso inizialmente di farmi le ossa farmi le ossa quindi su un campo che non era inizialmente comunque totalmente esente da fonti di ispirazione anche di questo genere perché ho iniziato comunque guardando su magari canali che adesso sono un pochino meno frequentati con l'avvento di social network maggiori tipo Facebook e Instagram ho iniziato su DeviantArt su Flickr e su altri portali dedicati all'arte e alla fotografia in generale poi farò anche un po' di nomi in termini di riferimento e di ispirazioni però comunque questo riferimento che io iniziavo iniziavo a mettere i miei disegni su questo sito che era DeviantArt vedevo le fotografie degli altri artisti e mi dicevo cavolo mi piacerebbe approcciare anche dal punto di vista della fotografia un discorso del genere perché con il disegno mi ci ritrovo abbastanza quindi ecco negli ultimi tre anni per me dal punto di vista mediatico chiaramente c'è stata una crescita importante per quanto ancora non esagerata perché non è che sia particolarmente particolarmente eseguito però a livello di estetica come dicevamo prima c'è stata una cosa che mi fa piacere ovviamente un buon ritorno anche dalle persone che mi seguono e sono stato abbastanza contento di questo l'approccio invece alla fotografia diciamo delle donne ma fotografo anche uomini in generale ovviamente il soggetto preponderante è la donna qui adesso magari adesso ve le faccio scorrere però passiamo dal ritratto più semplice in senso stretto al ritratto creativo concettuale che è quello poi di cui andremo a parlare ovvero una sorta di ritratto che non si basa solamente sul ritrarre la persona che secondo me si trova davanti alla lente quanto a metterci anche un pochino del proprio quindi a un ritratto dove c'è uno scambio una cosa che normalmente dovrebbe esserci secondo me in qualsiasi tipo di buon ritratto cioè uno scambio fra il fotografo e la persona ritratta però in questo caso si gioca un pochino più con la creatività si cerca quindi di creare spesso delle situazioni che non sono ovviamente presenti nel contesto oppure come appunto questo specchio però mettendoli in contesti naturali come a me mi piace fare che possa essere un fiume possa essere un monte o che possa essere una scogliera questo diciamo tutta questa branca della mia prima fotografia che è quella che risale più o meno al 2012 2013 in termini di ritratto ha molto di autobiografico per quanto io non faccia praticamente mai autoritratti nella prima fase della mia fotografia si nota almeno noto io guardando indietro perché poi è molto più facile guardare indietro e rimettere insieme i pezzi e vedere qual è stato il percorso noto noto un grande parlare di me magari più che in questa in una serie che che ho portato avanti nel tempo che è questa adesso magari le mettevo in fila era anche meglio però è una serie che parla di me diciamo un periodo abbastanza difficile della mia vita in cui sono stato diciamo ho sofferto di depressione mi sono trovato in una situazione di difficoltà questa situazione a livello visivo è quello che appunto probabilmente senza volerlo neanche io magari sentivo dentro e riuscivo a trasmettere molto facilmente la possibilità in questo caso me l'ha data anche il fatto che ho amiche molto coraggiose che si buttavano in mezzo a situazioni ben poco confortevoli perché si parla sempre di immagini scattate principalmente in inverno principalmente all'alba o al tramonto quindi con un freddo cane nelle mie immagini generalmente non c'è photoshop quindi se l'hai arrivata lì c'è arrivata praticamente nuotando beh vivo in un posto bellissimo che è l'Umbria che consiglio a tutti di visitare perché offre dei spunti dal punto di vista creativo interessantissimi che forse senza di esso non avrei neanche fatto niente mi ha permesso di creare veramente tanto questa serie comunque eccola vedo tanto di me cioè vedo questa figura appunto femminile che per me non è tanto il fatto che sia il mio gusto personale quello di ritrarre la donna ma il fatto che molto spesso mi trovo più con una sorta di facilità a comunicare attraverso il sesso femminile perché tendono personalmente per quelle che ho conosciuto in confronto agli uomini che ho conosciuto tendono ad avere un'espressività e una capacità di comunicare molto maggiore a livello anche di espressioni a livello di essere anche d'accordo diciamo a mettersi in un certo contesto perché poi parliamo inizialmente di una prima fase in cui appunto parlavo non con persone professioniste quindi la maggior parte erano amici miei se chiedeva un amico mio di mettersi in una situazione del genere si metteva a ridere le ragazze mi hanno sempre dato una possibilità invece di mettermi in più in gioco e di mettersi più in gioco loro stesse quindi forse questo è il motivo della scelta del sesso femminile iniziale e questa prima fase come vedete appunto basta vederne un po' ma comunque il mood è questo quindi delle atmosfere molto cupe una una nebbia che una sorta di quello che mi piace della nebbia è il fatto che distacchi molto dalla situazione quindi decontestualizzi e permetta di parlare molto di se stessi non tanto dell'ambiente non tanto dell'ambiente circostante quindi il me stesso che magari in quel caso indirettamente può essere riconosciuto nel soggetto fotografato chiaramente quello che voglio far notare non è che partivo con l'idea di parlare di me stesso questo è una cosa che secondo me non sempre andrebbe fatta cioè anche il fatto di diciamo l'artista in questo caso di mettere fuori quello che ha e dopo vedere è molto più facile vederlo retrospettivamente quello che si è messo in serie e quindi dare cercare di dare un significato e infatti tra parentesi uno dei problemi molto spesso che sento della fotografia concettuale è quando si cerca ispirazione si cerca qualcosa da dire questo cercare qualcosa da dire molto spesso può diventare controproducente se la ricerca è affannosa se è particolarmente lunga diciamo senza trovare delle risposte in realtà quello che c'era una citazione di un altro fotografo che adesso chiaramente non mi ricordo il nome in questa situazione ma l'avevo studiato preciso e comunque diceva che non è tanto importante cercare un significato più che altro mettendosi in una situazione che può essere quella della propria vita può essere quella dell'ambiente stesso dove si vive una situazione pregna di significato poi sarà il significato stesso a trovare le nostre immagini quindi a trovare noi e secondo me è quello che è successo con me nella mia fase iniziale c'è chi riesce a mettersi a tavolino a studiare un progetto dall'inizio alla fine io non ci riesco principalmente diciamo che non è uno dei capisaldi della mia fotografia la progettualità certo questa è una cosa che devo migliorare è una cosa che sto facendo nell'ultimo periodo di cercare di dare una serialità e una lettura magari più uniforme a quello che faccio perché magari mi rendo conto che a volte c'è una disemogeneità che dal punto di vista professionale per me potrebbe essere magari poco utile però ecco guardando indietro riesco sempre a dare un un senso migliore a tutto quello che faccio e a tutto quello che ho fatto e questo magari si attiene tutto a la prima fase che io parlo fino al 2013 2014 dal 2014 cominciando ad avere un pochino più visibilità in rete ho cominciato a avere più richieste quindi in questo caso parliamo anche di persone che non lo facevano solo per divertimento magari anche per lavoro quindi modelle modelli professionisti e non poi cominciavano arrivare i primi brand che chiedevano di avere un'immagine a livello commerciale per campagne pubblicitarie per copertine di libri perché uno dei campi dove magari lavoro meglio appunto sono immagini che hanno come poetica questa quindi magari un romanzo una storia fantasy una storia dark una copertina del genere è abbastanza facilmente vendibile e l'ho visto molto spesso e quindi da quel momento in poi è aumentata la progettualità chiaramente è aumentato l'intento di creare un certo tipo di foto per un certo target ma nel momento in cui lo stile si era già palesato poi fortunatamente almeno per me il cliente era quello che mi chiedeva quindi non ho dovuto neanche snaturarmi troppo per lavorarci questa ultima fase per fortuna per me magari meno fortuna per alcuni tipi di fotografie che a me piacevano molto è un pochino più chiara meno meno oscura vediamo se trovo qualcosa in termini di immagine questa forse ancora un pochino più scura questa non tanto sembra morta questa diciamo è la fase attuale dove gioco più con la luce e meno con lo scuro per quanto comunque il mio approccio sia sempre di quello di partire dallo scuro e poi disegnarci sopra come quando magari il pittore vuole fare una base una base nera e poi tirare fuori il colore sopra andando con l'olio e una parte magari più luminosa ecco dei ritratti appunto nella natura che hanno più o meno caratterizzato gli anni 2014 2015 della mia fotografia sono arrivato a un punto in cui sentivo parlare delle mie foto come fotografo delle frasche cioè quello che fa sempre le foto alle tizie in mezzo alle frasche e in realtà me la sono abbastanza cercata perché ho avuto un periodo in cui facevo non solo quello ma mostravo solo quello e quindi capisco l'appellativo e lo trovo traverso prima che si perda per strada si io sono parto per la tangente che si perda questo concetto che mi diverte affrontare con te un attimino anche perché tu adesso hai lanciato una freccia e vorrei disegnarci il bersaglio attorno la freccia che hai lanciato è proprio questa lancio la freccia perché sento delle cose e poi dopo unisco i puntini e unire i puntini poi a posteriori è una citazione che ti farebbe onore in realtà io spezzerei una lancia a favore di questo processo che sembra essere naif e vuoto perché in realtà se ci pensate il progetto a secco cioè quello fatto mentalizzando che cosa dovrà essere l'atto d'amore è come mentalizzare l'amore cioè è vero che è progettuale di nota intelligenza ma l'amore forse e anche l'espressione oltre che progettualità o forse invece che la progettualità può richiedere questa capacità che stai dimostrando di avere nel vissuto di percepire e questo è lo stile proporre e questo è coraggio ma poi non lasciare che siano altri a pascolare il tuo il tuo vissuto ma fare tu la sintesi di quello che hai proposto chi progetta in maniera mentale è analitico fa analisi analizza quello che deve dire mette per punti trova un algoritmo che spieghi che cosa vuole sentire tu invece da bravo da bravo come si dice bipolare creativo tutti i creativi hanno momenti di depressione se c'è qualcuno qui dentro che non ha i momenti alti e bassi non è un creativo se è un creativo di solito va anche in depressione da psicofarmaci e quindi siamo tutti in buona compagnia però dicevo è viva e diciamoci la verità che esiste una dignità molto significativa nel sapere sintetizzare quello che si è partorito e non solo analizzare quello che si dovrà fare in un secondo momento ti ho parlato addosso per chiederti se nel tuo percorso professionale e umano questa cosa come te la vivi tu come la vedi? è più facile guardarmi indietro e fare i puntini come dicevo questa citazione che magari è un personaggio che è magari leggermente più più in alto però è un discorso vero sia al punto di vista del del funzionamento poi dopo il percorso che uno segue perché nel momento in cui ho tracciato un piccolo inizio di strada è più facile muoversi in una certa direzione quindi questo è diciamo senza nessun tipo di studio particolare mio dal punto di vista della comunicazione è quello che mi è riuscito più facile e a quello che ho sentito di fare non mi piace troppo spesso ok rimanere diciamo stantio in un ambiente dal punto di vista anche stilistico quindi mi faccio magari influenzare da tutto quello che mi circonda da quello che mi circonda allora molto semplicemente cinema libri musica questi sono i primi tre che mi vengono in mente in termini di immaginario che cioè in termini di diciamo influenza del mio immaginario che poi si ripercuote nella mia nella mia fotografia il cinema in particolare ad esempio per quanto a livello a livello visivo le atmosfere e i tagli non sono gli stessi ho studiato molto i colori di Wes Anderson a livello di approccio di complementari e a livello di di immagine come frame appunto in senso di in senso stretto non lo vedete molto perché chiaramente a livello di taglio non c'è praticamente niente di Wes Anderson nelle mie foto giusto in qualche serie geometrica che non so neanche se ho qua che raramente mostro però diciamo che sono influenze che io prendo e poi mescolo metto dentro e cerco di tirare fuori quello che mi viene un'altra un'altra fonte diciamo di stimolo che può essere all'esterno di questi chiaramente oltre le semplicissime la semplice pittura lo semplice il semplice disegno ma quello è scontato sono i viaggi e conoscere le persone conoscere le persone che significa non solo conoscere quello che fanno a livello visivo quindi non soltanto conoscere fotografi ma conoscere anche persone che fanno tutt'altro e mi stimolano a prendere una direzione diversa cioè quello che potrebbe consigliarti di andare a disegnare sopra le foto quello che potrebbe consigliarti di cambiare strumentazione quindi questo magari è l'approccio che mi è rimasto abbastanza facile nel momento in cui sono passato da un campo totalmente lontano che era quello della biologia al campo della fotografia quindi la possibilità di prendere degli stili e di fonderli che in questo caso potrebbe non entrarci niente in realtà magari se vi dico le mie fonti di ispirazione alcune potrebbero essere facilmente ascrivibili alla mia fotografia altre non c'entrano assolutamente nulla eppure credo che non sia importantissimo andarsi a catalogare e ragionare a compartimenti stagni in un certo tipo di in un certo genere di stile questa fase è facilmente è facilmente associabile in termini di immagini di immaginario quindi un grande amore per l'acqua da queste immagini si vede abbastanza bene questo è un altro discorso da fare le parlavamo anche prima oltre appunto all'immaginario semplice della ragazza nelle frasche e tutto quello che ne viene incontro c'è un immaginario pittorico che ormai è diventato quasi è stato sdoganato è abbastanza è abbastanza comune che è quello dell'immaginario pittorico dei pre-Raffaeliti quindi con con l'Ophelia in primis è un'immagine che non è non ho di certo inventato io non ha assolutamente in campo fotografico non è certo inventato io e non ha e ha tantissimi esponenti migliori di me in questo senso però è forse quella dove riesco a mettere più dentro dell'approccio pittorico della mia fotografia perché qui vado qui vado a lavorare con i colori e vado a lavorare con i colori come lavoravo con i colori ad olio o con gli acrilici quando dipingevo e lo faccio chiaramente cerco di farlo sempre sempre in scatto e con un po' di post-produzione in termini di amalgama amalgama vabbè amalgama dei colori e degli elementi ci siamo un pochino diciamo distaccati da quello che magari era la tua domanda era un'osservazione sì giustamente potrei ricollegarmi a questo punto a quello che parlo di questo approccio pittorico l'approccio pittorico non so neanche se è un termine adatto alla fotografia perché poi la fotografia di sé ha sempre qualcosa di pittorico sia nell'approccio alla composizione che non è tanto diversa dalla dalla pittura la sezione aurea la regola di terzi quindi tutto l'approccio alla composizione è comune nelle arti visive che siano fotografia o disegno ma non è tanto legarsi a quello nel mio caso sì faccio molta attenzione alla composizione e questo devo dire che mi è venuta molto in aiuto la prima fase della mia fotografia quindi con lo studio dei fotografi di reportage e diciamo lo studio della composizione quasi inizialmente maniacale che poi piano piano ho lasciato da parte ma per un discorso di approccio ai colori lavoro moltissimo con i colori complementari cerco di non è una teoria difficile però cerco sempre di associare un colore ad esempio il blu con un colore che possa complementare come il giallo oppure il rosso con il ciano e questo nell'immagine funziona in maniera abbastanza implicita funziona bene non si nota troppo però fa uscire molto meglio in questo caso l'emozione che c'è dietro all'immagine stessa mi dicono spesso ma i soggetti sembrano morti in acqua più che morti sì sono morti sono qui che faccio l'ammissione ho ucciso molte persone se ne trovano nei laghi di tutta Italia in questo caso devo dire che per fortuna per loro queste sono terme però molto spesso capita che soffrano all'interno di acque gelide e questo mi sono infinitamente grato perché senza di loro non sarei mai riuscito a fare niente di quello che ho fatto in questo caso appunto l'approccio pittorico come vedete lavorare tanto sui bordi quindi cerco sempre di evitare di lasciare spazi vuoti dove si possa perdere lo sguardo ma questo è un approccio che generalmente funziona in qualsiasi tipo di dovrebbe funzionare in qualsiasi tipo di fotografia quindi c'è una linea di lettura dello sguardo lo sguardo che viene catturato e segue una linea guida in questo caso che magari può partire dalla punta fino a seguire al centro e convogliarsi a livello del viso oppure può finire a livello della mano comunque c'è l'utilizzo anche magari indiretto anche inconsapevole di una sorta di sezione aurea che magari non in queste immagini nello specifico però mentalmente quando si studia la composizione si approccia è una cosa che molto spesso viene abbastanza spontanea in termini pittorici magari sicuramente è importante il discorso della post-produzione perché è vero che non faccio tanta fotomanipolazione praticamente praticamente mai nel 99% dei casi non ne faccio è anche vero che mi piace molto lavorare in post-produzione sui colori quindi quella che vedete non era tanto di simile su questa foto però molto spesso i colori sono abbastanza stravolti soprattutto a livello di rossi e a livello di verdi a livello di rossi a livello di verdi io lavoro moltissimo e questa va bene immagina colori naturali vediamo se ne troviamo qualcuna dove si può fare un ragionamento del genere vediamo ecco ad esempio in questo caso cosa faccio fondamentalmente la pelle cerco sempre di toglierle l'aspetto un po' rosso della persona che si trova davanti alla macchina fotografica in condizioni di luce naturale vado sull'arancione e la vado a complementare con quello che è un colore che si adatta molto bene all'arancione che è il blu il blu o comunque il ciano in questo caso è grigio ma è un blu desaturato non è tanto un grigio poi ho scoperto che sono stati fatti diversi studi che fanno vedere che immagini che mettono insieme arancia e blu funzionano molto bene anche a livello di vendita di prodotto e questo non lo sapevo ma ha funzionato abbastanza bene nella comunicazione della mia fotografia e anche nel cinema il Telen Orange è una colorazione che va per la grande soprattutto nei blockbuster a livello di Hollywood quindi sia in termini di gusto personale ma anche in termini di comunicazione ho visto che l'utilizzo della complementarità tra blu e giallo blu e arancione funziona molto bene anche qui i rossi sono virati diciamo che tendo molto spesso in questi casi a ridurre la gamma di colori per evitare che ci sia una distrazione eccessiva nell'utilizzo della gamma cromatica le macchine fotografiche attuali ti danno la possibilità di avere una gamma cromatica estesa per migliaia migliaia di bit a me non interessa mi in questo caso interessa semplicemente mettere in contrasto il rosso e il ciano delle foglie e il rosso della pelle quindi magari a volte vado anche a rendermi conto che questa cosa fa un po' ridere che ho dei mezzi sempre più sofisticati però vado a ridurre tantissimo la gamma di quello che utilizzo e allora dici qual è il senso di comprarmi il mezzo più sofisticato c'è chi disegna con carboncino sanguinaccio certo assolutamente però dici al massimo potevo rimanere a fare le foto col telefono e dopo la qualità chiaramente è diversa però di base è quello che mi piace fare quindi in termini di non creare troppi elementi di disturbo a livello di visivo che possa essere sia elementi di composizione ma anche elementi di colore e soprattutto elementi di colore che sono quello appunto che mi interessa in assoluto di più qui ad esempio vabbè qui parliamo di una un'immagine dove il senso non voglio metterlo in bocca perché mi piace sempre lasciare chiavi di lettura alle persone non voglio dare la pappa già pronta quindi magari una possibilità di dare un'immagine che possa essere letta interpretata lo trovo sempre interessante però la scelta cromatica in questo caso almeno dal mio punto di vista toglie abbastanza dubbi nel senso è un'immagine abbastanza scura abbastanza depressa e l'immagine di questa ragazza che è veramente legata come come un salame all'interno dell'acqua perché aveva tutto questo filo questo spago intorno alla testa ha una comunicazione che magari funziona bene ed è complementata fila anzi forse resa più fruibile dall'utilizzo del colore in questo caso che è il blu ho visto fra parentesi che nella mia fase di utilizzo dei colori pittorici ho anche delle sottofasi di colore questa era la mia fase blu per circa sei mesi ho visto che ho fotografato soltanto foto blu e ora sono nella fase rossa la fase in cui utilizzo principalmente il colore rosso e arancione se la metto magari a confronto con quello che è il mio momento a livello di umore mi rendo conto che sono in una fase di umore decisamente migliore e quindi potrebbe esserci anche un'associazione in termini di messaggio dell'artista stesso all'interno del colore dell'immagine ma questo ne sono totalmente sicuro che sia così questo è il lavoro commissionato a proposito la maggior parte dei lavori che vedete sono sono foto fatte per me quindi sono foto che ampliano il mio portafolio e molti di questi cioè non molti alcuni di questi sono invece lavori commissionati che possono essere per copertine di libri per album musicali per campagne di prodotti vestiti prodotti per cosmesi questa è stata l'unica forse foto che ho fatto con una foto manipolazione importante perché se non lo dico sembra quasi che racconto cavolate se la vedete in confronto con le altre è l'unica foto dove c'è un forte impatto dal punto di vista come? lei ha in realtà dei capelli bellissimi lunghissimi quindi no decisamente no questo mi ha diciamo è stata questa foto l'ho tenuta nell'hard disk come piccola per un anno e mezzo non mi piaceva la trovavo una pacchianata e la tenevo da parte non la facevo vedere nessuno poi l'ho tirata fuori e ha fatto abbastanza successo quindi non lo so non so neanche se la includerei a livello del mio portfoglio però credo che sia sia interessante e divertente da di parlarne perché non credo neanche che ci riuscirei più a fare una cosa del genere ci ho messo veramente troppo tempo e il risultato è un pochino fino a si stesso a livello di comunicazione non c'è niente da parte mia a livello proprio è un'immagine che funziona dall'inizio alla fine come impatto estetico quindi è onirica sì e devo dire la verità che si vende molto bene questa immagine propongo no lo dico dopo ricordate no no prego è una stronzata voglio sentirlo sentiamolo con i presenti e quindi non con chi vedrà il video propongo un'accordata ci mettiamo d'accordo mettiamo assieme un po' di soldini poi troviamo un mercante d'arte che sappia disegnare bene i bersagli dopo che tu hai tirato le frecce perché se tu tiri solo le frecce da solo e poi ci vendiamo l'artista una volta usatoti con un mercante d'arte che ti descriva perché credo che questa tua mozzafiato capacità di lanciare frecce abbinata a una mozzafiato capacità di disegnare bersagli che sono due compiti diversi e tu hai il primo compito assolvi bene il secondo non è il tuo potrebbe produrre un fenomeno artista che che meriterebbe la cordata però bisogna legarti alla sedia farti tirare le tue frecce e trovare il mercante domanda sul circuito artistico ti sei già mosso? se sì come se no in termini di gallerie? sì sì e no allora ho cominciato a vendermi in termini di gallerie nel 2013 con una galleria di Londra che mi ha contattato insieme ad altri 40 artisti che io stimavo e seguivo tantissimo quindi questa cosa non mi sembrava il vero ci hanno invitato ad andare a Londra a esporre queste foto in una galleria che si trovava a Piccarilli Circo non mi ricordo no era vabbè comunque sì era una zona abbastanza centrale di Londra fatto sta che questa galleria non esisteva quindi ci hanno fregato a tutti esatto sono andato a Londra sono arrivato lì davanti a una cosa qui c'è una chiesa non c'è un indirizzo chiamato il numero non c'era ho chiesto di tirartela ok no ho cominciato a muovermi in quella direzione questa cosa mi ha totalmente demotivato totalmente perché immagina uno che parte dall'Italia e va lì a farsi bello per tutto preciso si compra la giacca nuova arriva davanti a un posto e non c'è cioè se non è quella una bella botta alla stima iniziale devo dire che è stata importante ho mandato una foto per fortuna ne volevano una per uno e ci facevano pagare 30 euro 30 sterline a testa poi si sono incurati tutti si sono portati via tutto però era eravamo 200 eh 6 soldi devo dire che hanno fregato non solo quelli come me che erano nelle prime armi ma pure gente molto brava e molto affermata quindi in mia riscolpa posso dire che era ben organizzata questa cosa comunque dopo di questo ho avuto la possibilità che va al curriculum sì sì assolutamente credo che sia me ne andrò sempre abbastanza orgoglioso e ho avuto delle richieste dal punto di vista magari di mostra a livello di esposizioni ma in senso continuativo la galleria che mi ha detto di avere uno spazio non ho ancora avuto non ho ancora avuto ti sfruttiamo noi ok no sono totalmente vergine in questo senso ho venduto foto sia come stampe ho venduto foto per privati anche magari però in termini di gallerie no ancora no per quanto mi piace perché comunque la fotografia forse sarebbe addirittura il campo che mi si è in termini di semplicità appunto di approccio naturale quello che mi si addice di più perché nella fotografia commerciale magari devo fare già un pochino più di compromesso lì invece posso spaziare totalmente con la testa con la fantasia e tirare fuori quello che mi viene più facilmente per quanto comunque la fotografia commerciale almeno per quella che mi riguarda è una fotografia commerciale che è molto punta sull'emozione quindi anche per le campagne pubblicitarie sono clienti che molto spesso puntano a dare una carica emotiva alle proprie foto per smuovere qualcosa alle persone che osservano quindi non ho mai dovuto ancora in questo senso neanche con la fotografia commerciale fare troppi compromessi questa ad esempio è una fotografia commerciale che non aveva nessun tipo di intento artistico però comunque credo a livello di colori da averci messo qualcosa di mio c'è stato uno studio da parte anche della stylist dell'associazione fra il rosa il rosso e l'azzurro quindi diciamo che in questo caso non mi sono snaturato ho lavorato forse una delle poche volte che ho lavorato con il flash però devo dire che sono stato contento del risultato questo genere di foto invece funzionano più magari a livello di storytelling quindi è un altro filone della mia fotografia che forse è quella che mi piacerebbe più andare a ad approfondire con il tempo quindi muoversi nella direzione cinema ok non tanto cinema in senso stretto però comunicazione di storie attraverso le immagini organizzo dei viaggi con gente appassionata d'arte di fotografia da fotografia stai di stai modelli abbiamo avuto la possibilità di sfruttare in questo caso quelli sulla bellissima che è Lanzarote per creare una storia ho tante immagini ancora da mettere in sequenza e una cosa dove devo migliorare è lavorare meglio sulle serie e farle funzionare meglio i singoli portfolio quella è una cosa che dovrei andare ad arricchire probabilmente partecipare a delle rotture per portfolio professionali potrebbe aiutarmi cosa che mi mette un pochino in soggezione a dire la verità perché andare lì e sapere che magari tutto quello che ho fatto è stato un professionista sbagliato in ordine di messa in logica di un di un progetto ma non lo so però mi è capitato di sentirmi dire costruttivamente che un ordine di magari immagine che io avevo urato inizialmente era totalmente nella mia testa in realtà non c'era secondo te che cosa attrae i grupponi di persone che ti seguono come un guru mi fermo che cosa attrae allora partendo dal presupposto che ho visto che la maggior parte della mia utenza è femminile non devo dire le belle ragazze o potrebbe anche essere le belle ragazze però è una cosa magari un pochino banale l'utilizzo del colore l'utilizzo dell'immagine in senso artistico quindi l'umore dell'immagine l'atmosfera dove una persona può magari andare a rispecchiarsi credo che la comunicazione quindi la carica emotiva che gli trasmette non vedo altrimenti perché dovrebbero anche perché ok magari può capitare quello che viene là e chiede che macchina fotografica hai utilizzato qual è l'obiettivo perché voglio fare delle foto simili no? però per il resto credo che comunque le persone vedano qualcosa che appunto gli comunichi risposta a un certo tipo di messaggio di sentimento che possono andare a ricercare in un momento della loro vita particolare oppure semplicemente sono delle immagini che loro fruiscono come belle però probabilmente tu tocchi non coscientemente tocchi dei tasti che sono quelli che vibrano in queste persone e vai vai è una cosa che mi farebbe enormemente piacere perché comunque significerebbe che questo è un messaggio che non si ferma solamente a me quindi non rimbalza da me alla foto a me ma che arriva a qualcun altro altrimenti rimarrebbe una cosa un pochino troppo autoreferenziale quindi sono contento che mi dici che possano suggerire qualcosa e ho avuto anche magari quante immagini con più di un soggetto hai? poche una solitudine sì 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 soprattutto nel 2014 2015 avevo solo questa questa è fortunatamente però mi si sarebbe ricollegato perché nell'ultima fase della mia fotografia appunto l'approccio allo storytelling al cinema è questa parte qua quindi con l'utilizzo anche del bianco e nero ma la fotografia con un solo soggetto come dici te racconta molto di me ed è la prima parte ma continuativa anche al momento dal 2014 ad adesso adesso ho cominciato un pochino più a muovermi in altri campi complice un migliore umore però questo è quello dove mi piacerebbe muovermi nello specifico Rosac ti ucciderai non cambiare umore perché scavalli il target no 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 ma io guarda sono perfettamente conscio di quello che funziona e di quello che faccio quindi so benissimo quello che rendisi partecipe sì sì allora quello che funziona e quello che faccio i colori i colori l'approccio del complementare colpisce sempre l'occhio la composizione la composizione è sempre abbastanza ricercata anche in questi casi dove l'ambiente è molto semplice c'è una stanza vuota e un raggio bianco riesco comunque a giocare abbastanza bene con la luce con i tagli con e quindi andare in seguito a caricare il colore per dare quell'atmosfera particolare quindi questo secondo me mi riesce abbastanza bene a comunicare un'emozione ci sono fotografi che a livello commerciale funzionano molto meglio di me perché hanno una capacità di progettuale una capacità di allestire un set di mettere diciamo rivalorizzare un prodotto che io non avrò mai probabilmente almeno in questa fase della mia fotografia non avrò mai e le apprezzo moltissimo quello che trovo che dove mi trovo molto bene quindi se posso per una volta parlare in senso abbastanza autocelebrativo è che riesco a prendere dalle situazioni più semplici i punti di forza quindi a tirarli fuori e a giocarci è quello che normalmente il mio approccio è questo cioè da cosa mi faccio ispirare entro ho un soggetto da fotografare ho un ambiente da fotografare e riesco a mettere le due cose abbastanza bene insieme a tirare fuori quello che secondo me funziona in termini visivi chiaramente può piacere o non piacere essendo che tu sei come quei matematici che vedono il colore dei numeri e quindi li distinguono mentre i comuni mortali non vedono nessun colore dei numeri e quindi restano indistinti è evidente che tu vedi e senti delle cose che neanche sai di sentire certo sicuramente le vedi ma scusate una domanda come nascono scatti tu cosa hai come vedi un posto dove vedi sì allora può capitare che sia una cosa subitanea quindi magari mi trovo fortunatamente fortunatamente in una situazione ho la macchina fotografica faccio la foto in una situazione che mi ha attratto a livello visivo c'è da dire che la maggior parte di questi posti non è che stanno sotto casa mia quindi devo alzare il sedere e mettermi in moto per andare a magari cercare di fare una cosa che chiaramente poi svanisce perché una nebbia del genere sul lago io a casa mia non l'ho mai trovata l'ho trovata solo quel giorno che ho fatto questa foto di 5-6 foto 7-10 ci racconteresti che cosa è stato dietro prima durante certo allora in maniera abbastanza simpatica sono state dietro tante urla da parte sua perché chiaramente arrivava davanti a una situazione dove era molto freddo doveva bagnarsi però cosa è stato dietro sono andato tornando a casa dal lavoro sono da nutrizionista sono passato davanti al lago questo lago era pieno di nebbia sono tornato a casa ho chiamato la mia migliore amica ho detto guarda c'è questa situazione dove dobbiamo assolutamente andare adesso non avevo la macchina quindi ho chiamato un altro ragazzo mi sono fatto accompagnare là gli ho offerto da bere non è questo dettaglio sì e abbiamo fatto appunto diciamo che la composizione qui era già fatta io non ci ho messo niente del mio tu dici vedi cose che non sono visibili ad altri se un'altra persona si fosse soffermata un attimo avrebbe visto questa situazione qua stessa serie stesse tipo di atmosfera non trovo che ci sia niente di particolarmente strano a livello visivo di cosa possa essere visto e non visto questa magari questa a livello di comunicazione è più semplice stavo cercando di fare dei ritratti a una persona e ho visto la 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 possibilità di giocare con i riflessi cosa che mi piace moltissimo giocare con i vetri e i riflessi il fatto che collimasse con il suo viso non è stato totalmente un colpo di fortuna perché poi ci ha voluto il tempo di farlo uscire abbastanza in maniera precisa però il fatto di in questo caso di muoversi e conoscere nuovi posti vedere nuove persone mi aiuta perché sono andato a casa di questa ragazza che non conoscevo e non avrei mai potuto avere la possibilità di fare una foto con questo vetro con questo albero dietro quindi anche quando dico conoscere persone e conoscere luoghi e fare esperienze il fatto anche che ci fa spostare e ci fa uscire dalla dalla nostra normalità e dalla nostra dalla nostra routine in questo caso in questo tipo di foto forse è quello che è stato il merito cioè piuttosto che la foto in sé che poi da punto di vista tecnico magari funziona perché l'apertura dell'obiettivo è la tale da mettere anche un pochino a fuoco l'elemento dietro però quelli sono dettagli non è tanto il fatto di averla fatta bene in termine tecnico magari questa è una fase un po' diversa questo è il stesso discorso che ti rifacevo dice tu vai in posti e vedi questo è un posto che ho visto il lago il lago di Perugia si era totalmente alzato di un metro sopra il livello cosa che non ho mai fatto e quindi ho visto che questo posto il ponte era lagato e ho detto magari ci si può creare una storia storia in realtà che poi non si è concretizzata o almeno se la scrivi totalmente a un singolo scatto la storia c'è ma avevo l'idea di farci una storia dietro in termini di serie non ci sono riuscito lei si è prestata si chiama Linda e si è prestata molto spesso a queste pazzie non è sempre lei non è sempre lei questo vestito bianco è sempre quel vestito bianco è un vestito bianco di sua nonna quindi l'ha cucito sua nonna e l'abbiamo massacrato però penso che non sia contenta non è sempre lei però lei mi ha aiutato molto spesso soprattutto in casi abbastanza particolari perché stranamente è sempre inverno in queste case quindi in estate ho meno ispirazione non lo so perché però la questione delle luci mi premeva molto più inizialmente avevo molto paura di scattare con la luce forte adesso sto cominciando più o meno a trovare delle scappatoie però ecco sicuramente si deve scegliere no 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 infatti però almeno sicuramente di quella fase no lì non esisteva penso che non ho fatto foto in luce forte in quei casi neanche luce forte ecco però in termini si nel senso utilizzo creativo della luce forte ma difficilmente utilizzo luce forte impattata e quindi si c'è anche luce artificiale però una serie questa è appunto la direzione dove sto andando quindi la direzione cinema la direzione storytelling e quello che mi piacerebbe non dico staccarmi da quello che facevo prima perché ti ripeto il Prozac sarà la mia morte in realtà questa è una cosa da cui parlai al tempo anche con lo psichiatra dice attenzione perché dopo ho stacchito completamente dal discorso del tuo marchio di fabbrica e questo potrebbe non piacere più però se devo dire la verità mi piace la direzione che sto prendendo e almeno voglio sperimentarla quindi l'approccio alla fotografia al cinema molto spesso ho pensato che fosse più la mia direzione piuttosto che la moda in termini per quanto magari non è detto che uno deve per forza fare le due cose però capita magari di dover farci conti prima o poi se fai fotografia di ritratto almeno se vuoi lavorarci invece la direzione appunto del cinema mi piace molto sia per il fatto che sono un grande amante del cinema ma anche per il fatto che mi permette molto di giocare con la fantasia cosa magari che in questo caso mi riesce abbastanza bene e luci questa invece ad esempio è moda questo era un servizio per un marchio di vestiti per quanto comunque mantenga sempre una una coerenza stilistica abbastanza importante lascio scorrere un attimo per quello che ho fatto mi sono anche divertito però ho avuto situazioni positive ho avuto riscontri positivi quindi magari devo prima incontrare le situazioni che saranno difficili perché tanto ci saranno per poterti dare una risposta finché le cose vanno bene è facile dire ok poi vediamo come andrà per le esperienze che ho avuto adesso mi hanno dato totale libertà creativa quindi mi è andata bene nel senso però sicuramente se ci voglio lavorare arriveranno il momento in cui questo non accadrà quindi quando avrai la linea editoriale da seguire quando avrai la linea del marchio e lì si tratterà di scegliere se appunto è quello che fa per me o no per adesso sì devo dire che mi sono trovato abbastanza bene non ho avuto esperienze negative in questo campo c'è da dire che faccio tantissime foto faccio tantissime foto quello che tiro fuori è una percentuale veramente piccola quindi tu dici magari mi trovo sempre nella situazione non è che mi trovo sempre nella situazione giusta nel momento giusto quello che si vede è quello che io sono riuscito a tirare fuori dalla situazione giusta nel momento giusto poi si tratta veramente io ho scattato penso in maniera quasi ossessiva per due anni scattavo praticamente tutti i giorni quindi sono state tante situazioni in cui sei arrivato su un uomo oppure su un set e alla fine giornata non poteva quasi tutto dovevo avutare sì 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 mi è successo sì sì assolutamente è anche successo il contrario situazioni dove arrivi non ti aspetti di tirar fuori niente di buono poi fai la foto che preferisci tu dici mi sono trovato nel momento giusto al posto giusto in realtà qui no perché mi sono dovuto alzare le tre di notte prendere la macchina fare un'ora e mezzo di strada e arrivare in cima al monte aspettare l'alba e aspettare la situazione di nebbia che sapevo perché nella mia la cosa che mi sento molto mia dell'Umbria che l'ho sempre viaggiata molto quindi la conosco molto bene so che quel monte a quell'ora c'ha sempre questa nebbia quindi il fatto questo mi ha aiutato sono andato quasi a colpo sicuro non sapevo che c'erano i cavalli così quindi questo è andato bene l'elemento quindi di dubbio c'è sempre e e tra l'altro ha lo stesso vestito di cui si parla la tua amica è una santa lei è veramente è veramente lì lì sì sì tu nella borsa hai la macchina fotografica e il vestito sì esatto esatto in realtà quel vestito ormai è andato veramente distrutto infatti mi dispiace molto perché dovrò trovarne un altro però mi ha dato veramente una grande spinta e di che vogliamo parlare tu tieni workshop sì a uso e consumo dei meme sì cosa ti chiedono che cosa insegni cosa ritieni che dai e che cosa pensi che di quello che viene dato venga poi recepito allora non solo dal gruppo al pascolo ma dai singoli quello che do io prima di tutto è quello che vorrei ricevere in queste situazioni cioè una fonte di ispirazione che non sia semplicemente un pacchetto quindi che io prendo e utilizzo da quel momento in poi con quelle caratteristiche potrebbe essere semplicemente uno stimolo a vedere le cose in maniera diversa da quello che faccio quindi non è detto che la persona che viene al mio workshop deve fare le cose che faccio io assolutamente potrebbe anche essere un commercialista che si occupa di fotografie di macro di piante cioè non me ne frega niente che la persona diventi un nuovo me anzi quello però che a me ha aiutato ho seguito in passato alcuni altri workshop di fotografi magari di moda da cui sono totalmente distaccato ma che mi hanno dato essendo comunque dei professionisti una possibilità di ampliare le vedute ampliando comunque le vedute io ho avuto la possibilità di scegliere cosa mi piaceva e cosa no quindi queste persone ok avranno magari uno stimolo dal punto di vista tecnico quindi sia in termini di scatto in luce naturale in luce artificiale e di post produzione perché poi mentirai se ti dicessi che non mi chiedono il 90% delle volte della post produzione sul colore però quello che voglio passare non è solamente questo non è un discorso solamente tecnico è semplicemente il fatto di dare la possibilità a una persona di ampliare le proprie vedute fare qualcosa di magari diverso da quello che faceva prima o di stimolare sia alle idee chiare una direzione quindi spiegare come raggiungere un risultato particolare se è già nella sua testa non voglio che ci sia come dici te la creazione di cloni ma la cosa non mi preoccupa questa qui eravamo in gita in campagna abbiamo trovato questi cavalli al pascolo ho provato per un'ora a fare questa foto con i cavalli che chiaramente non erano d'accordo quindi ci ha voluta molta pazienza ma forse più di un'ora addirittura ci sono situazioni in cui magari arrivo al punto di arrendermi altre volte dove dico proviamoci 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 alla fine qualcosa esce e quello che continuando appunto a rispondere alla tua domanda essendo comunque l'ispirazione non soltanto legata a un certo stile io sono dell'idea che si può prendere ispirazione da tantissimi campi diversi in qualsiasi ambito quindi anche il fatto il mio di aver studiato tutt'altro quindi biologia mi ha aperto tantissimo la testa verso alcuni ambienti e che ancora stranamente mi tornano utili almeno mi ha dato un metodo che io posso riutilizzare il metodo scientifico sia in termini tecnici che mi ha aiutato tantissimo a studiare la luce ma anche in termini di curiosità perché la curiosità è importantissima verso altri altri stili il mio stile iniziale non era questo se vi faccio vedere le prime foto per fortuna non le ho qua perché sono veramente imbarazzanti è una sorta di mischia di fotografia glamour e fashion di basso rango e veramente la faccio vedere workshop di solito perché trovo che sia simpatico molto spesso credo che non bisogna farsi scoraggiare da tutto quello che si vede perché è chiaro che la persona alle prime armi che arriva sul campo vedrà dei lavori incredibili da parte di artisti incredibili io stesso se mi metto a guardare le foto di team walker mi si prende male nel senso che mi rendo conto che non riuscirò mai a raggiungere quel livello di estetica di complessità però non bisogna scoraggiarsi perché il percorso di ognuno secondo me è univoco se abbiamo passione abbiamo voglia di fare di continuare a farlo di provare di provare di provare alla fine qualcosa di buono esce non è che bisogna essere degli in fan prodige come quel ragazzo di cui ti dicevo prima lui ha avuto la possibilità di cominciare molto presto io non credo di aver avuto la possibilità di iniziare molto presto perché fino a 24 anni non sapevo neanche che era una macchina fotografica quindi diciamo mi ci sono trovato per un'estetica sempre abbastanza coerente in termini di cinema di gusto personale però per il resto è stato anche per me un campo inesplorato e secondo me i workshop che ho frequentato mi hanno dato uno stimolo in più a cercare nuove direzioni che non erano queste però mi hanno portato ad arrivare qua l'ispirazione in quel caso uno prende tanti elementi da diversi campi che possono essere artistici possono essere scientifici li mette insieme poi se riesce tira fuori qualcosa di proprio questo appunto è quello che sono riuscito più o meno a tirare fuori io nell'arco questi ritratti partiranno forse il più vecchio del 2013 perché per il resto sono tutti il 2014 il 2015 e qualcosa del 2016 sono quindi ritratti fatti in tre anni la fotografia concettuale potrebbe essere intesa come quella fotografia che il fotografo pensa e poi mette in posa cioè diciamo pensa e poi mette in atto cosa che magari è completamente diverso dalla fotografia intesa come documentaristica intesa come reportage in cui si cerca di andare a documentare quello che è successo per quanto la chiave di lettura ci sarà sempre anche se parliamo di reportage dall'esperienza della persona particolare ci sarà sempre una chiave di lettura nel mio termine più che concetti io cerco quelle immagini di veicolare delle emozioni e questa ad esempio è un'immagine che mi piace tantissimo anche questa perché è una storia fatta e finita secondo me con un singolo frame lei sembra quasi che sta per venire sommersa da questa enorme ondata di nuvola che si trova sopra il monte che poi in realtà è quello che è successo perché la nuvola è veramente venuta giù e ha ricoperto tutta la vallata questo è la piana di Castelluccio di Norcia che è un posto stupendo che vi consiglio almeno di visitare una volta nella vita io ho la fortuna di averla vicino io sto a Perugia quindi mi ci vuole due orette per arrivare là però ogni volta vale la pena poi ho lavorato come nutrizionista in farmacia a Norcia che sta lì e ogni giorno che finivo di fare le visite mi alzavo e andavo a fare le foto al tramonto il bello è di loro che avevano pure la pazienza ad aspettarmi in farmacia mentre facevo le visite le ragazze le modelle e venivano in seguito inizia le prime volte che gli proponi una cosa del genere e sei uno diciamo una delle prime armi ovviamente le risposte sono molto spesso negative però adesso gli viene abbastanza più semplice di buon cuore fare delle imprese del genere perché sono imprese più di pazienza che di relazioni del genere e in questa siamo ritornati alla fase appunto quello che dicevo è cercare di comunicare un'emozione quindi magari le mie immagini anche se parliamo di storytelling molto spesso possono funzionare anche con il singolo scatto questa è una cosa che mi piace particolarmente quindi cercare di evicolare dare una chiave di lettura all'utente che in questo caso è l'osservatore mi piace il fatto che magari qualcuno mi capita sui social network che mi commenta mi dà una chiave di lettura che non era la mia ma è una chiave di lettura stupenda e io la la metto poi nella nella mia testa e mi ci ritrovo magari mi aggancio si mi interessa sapere il tuo vissuto a proposito dei social allora diciamo che ho iniziato come ti ho detto approcciandomi dei canali che ormai stanno un pochino morendo che sono Deviantarte e Flickr che sono portali di Deviantarte anche di arte in generale io infatti ho iniziato mettendo i miei i miei disegni su Deviantarte da qualche parte dovrebbero esserci ancora devo ricordarmi di eliminarli però e su Flickr invece ho cominciato mettendo appunto le fotografie primi due anni di totale anonimato in cui appunto mettevo le mie foto e cercavo di spammarle in giro per internet per facebook nella speranza che qualcuno mi vedesse in 16 forse le tue immagini possono possono servirmi poi piano piano in realtà l'approccio ai social network diciamo secondo me ha avuto degli alti bassi delle cose negative delle cose positive le cose negative secondo me che mi sono ultimamente mi faccio influenzare un pochino troppo dalla risposta non tanto dalle critiche quanto da quello che so che fondamentalmente è la numerica per un certo tipo di foto se io metto una fotografia che mi piace magari tantissimo però che so benissimo che al pubblico non piacerà poi mi escoraggio e la faccio di meno quel tipo di fotografia e vado a ricadere nel versante del facile che per me ormai è facile cioè la fotografia che so che sul social network si vende quindi è un pochino la croce dell'inizia del social network è il fatto di sapere quello che che la persona vuole vedere ma sapere anche che questo è un elemento lesivo per la mia crescita se riesci a usarla come pastura sì infatti ci sono momenti in cui so che magari per dare una ravvivata e butto su qualcosa che potrebbe essere appunto far venire sui pesci ma in maniera molto molto semplice senza tante pretese quello che invece faccio attualmente magari mi sono mi sono molto adesso ho puntato molto su instagram perché credo che come mezzo di comunicazione attuale sia 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 molto facile per quanto dicono che ormai è stato anche suppiantato da snapchat che funziona meglio più immediato rende più la persona partecipe all'interno della tua vita come fotografo non so se se mi servirà mai molto perché sono immagini subitane al massimo posso fare vedere quello che sto facendo quel giorno però la maggior parte delle mie giornate magari che ne so sto a casa e che mi metto a fare la ripresa di mie che sto mangiando yogurt quindi non è non è non è quello il mio target magari c'è chi c'è chi riesce a fare questo per una cosa completamente diversa quindi rimango ancora molto ancorato chiaramente all'instagram perché funziona bene vende bene i brand la maggior parte dei lavori che ho avuto l'ho avuti attraverso instagram e questo non posso assolutamente negarlo che senza instagram più che facebook non so neanche se avrei cominciato dal punto di vista professionale quindi sì per me sono rispondevo a una domanda un po' di tempo fa che mi diceva se i social network sono fondamentali per te attualmente lo sono ma non tanto sì anche perché chiaramente per un discorso di gratificazione che abbiamo sempre quando riceviamo un like magari riceviamo un like anche da una persona che stimiamo dal punto di vista professionale siamo doppiamente contenti però quello che poi dopo fa tornare in termini di risultato è diventato tangibile quindi non non posso non posso fare finta di niente non vorrei che magari diventassi schiavo del discorso appunto di lavorare soltanto con quello che piace hai riconosciuto un momento una fase o una tipologia di immagini che ha coinciso con il primo la prima ondata di crescita poi autogenerante però quello che il sasso che ha innescato la cosa allora più che più che un singolo elemento magari è stata una fase ho cominciato ho cominciato a frequentare a livello personale persone magari fotografi fotografe che erano già un pochino più seguite nel settore quindi la possibilità di confrontare certi elementi mi permetteva di puoi ripetere per favore certo mi sono messo appunto a confrontarmi e a farmi anche aiutare da altri fotografi già presenti sul settore che facevano cose simili quindi un tipo di estetica che richiama estetica che mi ha dato una crescita iniziale abbastanza importante poi piano piano le strade si sono separate e ci siamo ci siamo divisi per quanto in alcune situazioni ci sono persone che si fanno pure delle domande dicendo ma tu fai quella cosa anche lei ha fatto la stessa cosa mica siete la stessa persona e pure è arrivato qualcuno che mi dava del mitomane pensando che fossi scambiassi la personalità con un'altra fotografa in realtà sono uno basta però adesso si ma schizofrenico no no quello no fortunatamente no e quindi diciamo l'elemento cioè se ti devo dire un punto dove c'è stata questa svolta non c'è non credo soprattutto perché ancora non sono a livelli di popolarità che dici oggi hai fatto questa foto sei finito su studi aperto ho cominciato lì servizio nazionale schizzato ti invitano alle trasmissioni a porta a porta no cioè figurati però parliamo sempre di livelli abbastanza abbastanza bassi quindi non non c'è stato ancora l'elemento che ti posso dire che mi ha fatto fare il salto ecco questo almeno non lo so identificare magari c'è stato ma non saprei non saprei identificarlo Instagram è stato molto d'aiuto perché prima mi limitavo semplicemente a Facebook andavo abbastanza lento con Instagram ho avuto una crescita decisamente più diciamo più veloce quindi forse è stato il momento in cui ho aperto Instagram ecco questo l'ho aperto l'anno scorso quindi è stato forse questo il momento in cui c'è stata una crescita un pochino più veloce in termini di social network tipo ti dicono sempre che una bella faccia in primo piano vende molto cioè si vede molto di conseguenza attira molto di conseguenza la gente comincia a seguirti quindi ci sono momenti in cui so che un certo tipo di immagine magari mi aiuterà un pochino a crescere e questo tipo di foto ad esempio vanno fortissimo su Instagram queste foto qua sono anche queste queste vanno molto bene perché sono facilmente leggibili sono rapidamente leggibili quindi le metti davanti all'utente sono stimolano diciamo subito il doppio tap per il like ma anche magari se la foto in sé non ha niente di particolare può capitare che la persona la apprezzi quindi in termini di social network per me con il mio tipo di fotografia è abbastanza facile ci sono fotografi che conosco che stimo tantissimo che non sono seguiti molto sui social network almeno rispetto a questo tipo di fotografia eppure perché magari in termini di immagine sono meno vendibili meno spendibili sui social network no non utilizzo tecniche particolari molto onestamente non ho mai comprato follower ma non perché non ho niente in contrario col comprare follower anche su facebook ma non credo che mi porterebbe molto lontano ecco quindi magari mi cresce il numerino e poi la fotografia rimane là cosa che magari potrebbe essermi utile più per vendere un workshop mi hanno detto che quando ho cominciato ero abbastanza non sapevo sapevo poche niente di instagram quindi non sapevo gli orari a cui bisognava pubblicare non sapevo i hashtag non sapevo il target quindi di base andavo un pochino a caso la cosa buona che inizialmente ho già capito era che non dovevo sovraccaricare quindi non buttare troppe foto tutte insieme perché dopo chiaramente la gente smette di seguirti o si stufa e quindi non c'è ritorno di conseguenza sono andato sempre un pochino mirato quando ho cominciato avevo già un pacchetto di immagini abbastanza grande quindi ho avuto la possibilità per tre mesi di mettere ogni tre ore una foto ogni tre quattro ore una foto per me buona che mi ha fatto crescere inizialmente però per il resto non ho avuto nessun tipo di particolare avviso per dirti molto in maniera spiccia se devo andare a fare il ritratto magari lì no che erano meno due gradi però se devo fare il ritratto del genere in una situazione abbastanza ampia poi se devo fare il ritratto e voglio avvicinarmi non ci vuole moltissimo quindi in termini di approccio dal punto di vista meramente tecnico e semplice per me non è difficile fare entrambe le cose se poi mi chiedi di scegliere a livello di gusto quello che preferisco anch'io preferisco una veduta più ampia che può essere secondo me un pochino più cinematografica perché è quello che a livello di gusto mi piace anche nei fotografi che seguo e questo mi piacerebbe metterlo più magari più in pratica però è chiaro che un ritratto stretto lo posso fare a casa mia un ritratto ampio in quella maniera e devo per forza muovermi e quindi uno dei consigli che molto spesso mi sento di dare è quando si rimane bloccati in termini di ispirazione di viaggiare perché ci permette anche a livello di sia di atmosfere che di persone che di ambienti di ampliare totalmente le vedute di provare anche nuove strade se non avessi fatto alcuni viaggi che poi dopo ho ripetuto nel tempo tipo a Lanzarote che ormai ci sono andato cinque volte perché me ne sono innamorato probabilmente la mia fotografia sarebbe o avrebbe preso un'altra via o si sarebbe impantanata da una parte ci sono elementi che la punto di vista dell'ispirazione mi hanno aiutato moltissimo le foto che ho fatto me le ho fatte vedere prima una di una ragazza su una scogliera a Lanzarote quella è appunto una foto commissionata dove il cliente voleva avere cioè mi ha chiesto pure dove andare perché nel senso voleva sapere qual era il punto dove io mi trovavo meglio in termini di atmosfere per avere quel tipo di risultato io lì mi trovo benissimo per me è una seconda casa quindi è questa quindi diciamo sapevo già colpo sicuro dove andare qual è il risultato avere poi vabbè c'è stato anche un location scouting il giorno prima per vedere tutte le situazioni e chiaramente la situazione non era esattamente come me l'immaginavo perché il cielo era completamente sereno però sono abbastanza contento anche il cliente è stato contento in questi termini sì perché il cliente sa che appunto ci deve essere una carica emozionale e in questo caso la carica emozionale è molto maggiore cioè la possibilità di dare sia ruolo al soggetto ma anche all'ambiente che è straordinario perché sembra Marte fondamentalmente quindi è una carica emotiva importantissima ho cominciato a lavorare da un annetto con una stylist che si chiama Alessandra Santini di Firenze lei mi aiuta molto spesso a livello di outfit a livello di location scouting magari in termini di situazioni che un pochino più complesse che io non sarei riuscito a mettere in ordine però nel 90% della mia fotografia è tutto da solo ma la cosa positiva per me è che non parliamo mai di situazioni troppo difficili cioè anche la mia preproduzione non è così importante in termini di preparazione cioè è sempre abbastanza lasciata non al caso però mi piace sempre avere quell'elemento di imprevedibilità e se devo avere una cosa di cui andare fiero è il fatto di prendere appunto questo elemento di imprevedibilità e saper tirare fuori qualcosa di mio quindi sì comunque in base alla tua domanda gestisco gestisco tutto da solo perché il make up non lo faccio mettere praticamente mai sono soggetti che la maggior parte dei casi sono struccati sono naturali non è sempre possibile avere tutto l'ideale ci sono foto che magari le vado a rivedere penso caspita qui se avessi avuto questa cosa invece che quest'altra sarebbe stata meglio me lo dicono pure questa foto se l'avresti fatta con un colore di questo tipo come esatto no infatti magari non l'avrei neanche fatta quella foto quindi figurati non è una cosa che mi preoccupa quello che è rimasto è anche il bello della fotografia insomma che non tutto può essere fermato non tutto può essere pensato prima la parte dell'imprendibilità è meravigliosa è la cosa più stimolante lavoro con un'agenzia di cioè lavoro è un'agenzia che vende copertine di libri di Londra e quindi nel momento in cui ha un tot alcune foto che magari non le ho e non non so che farci fra virgolette perché poi in realtà lo so che farci in termini anche di portfoglio le do a loro e loro le vendono per le copertine di libri e io ho un buon ritorno oppure per magari i clienti stessi come dicevo prima che mi trovano tramite Instagram la cosa sta molto crescendo e sono contento anche per il fatto mi piaceva anche il lavoro della nutrizionista ma se devo scegliere se mi dà la possibilità di scegliere scelgo sicuramente quello della fotografia nonostante la cosa mi preoccupasse molto inizialmente perché avevo paura che il fatto di farlo diventare il lavoro avrebbe tolto quella magia che ci stava dietro e quindi quel gusto di farlo in realtà la cosa positiva per me attualmente è che riesco a lavorarci mantenendo le prerogative del mio lavoro mi capita magari di un giorno mi sveglio e mi viene questa idea perché magari ho visto un film perché magari sono stato influenzato anche indirettamente da un'altra fotografia e voglio provare a metterla in atto in quei casi la corrispondenza è 99% no cioè non c'è magari mi immagino una cosa e poi ne tiro fuori un'altra purtroppo non ho messo in queste serie una immagine che mi piace molto c'abbiamo internet perché questa è una risposta che andrebbe esattamente nella tua direzione aspetta comunque la risposta in questi casi mi piace anche il fatto che il risultato non sarà mai uguale a quello che uno vuole quello che si è prefigurato e che vuole andare a ottenere in termini di preparazione per il resto nel momento in cui mi trovo davanti all'immagine so bene o male quello che ottenere a parte i primi scatti di prova dove magari mi trovo un pochino ansioso davanti alla situazione e dici c'è una bellissima situazione non so come tirarla fuori oppure c'è una situazione del cavolo che cosa ci vado a fare dopo un po' di tempo mi abituo e so che un certo tipo di aspetto lo tirerò fuori e quell'aspetto lo tiro fuori quindi magari me la previsualizzo anche in termini di postproduzione in colore e so quello che più o meno andrò a fare dall'inizio alla fine questo mi aiuta moltissimo la mia fase di preproduzione c'entra molto più con il mondo con l'atmosfera che con la preparazione dei dettagli quindi mettermi in una certa situazione magari in termini di in termini di musica in termini di di film che mi guardo prima di fare le foto di album che mi ascolto prima di fare le foto questo mi aiuta tantissimo a crearmi un immaginario che poi dopo vado a cercare di inquadrare di seguire mi è capitato di partire con un'idea e di trovarmi esattamente la stessa idea nella foto questa mi ha reso molto contento per quanto è una cosa che non credo che sia il mio punto di forza maggiore questa qua l'ho pensata e l'ho messa in pratica in maniera abbastanza subitanea quindi non c'è non c'è fotomanipolazione qua sapevo che in questo in cima al monte subassi di Perugia ci sono due alberelli sparuti che ho utilizzato anche in altre foto e ho questo specchio in casa da anni volevo utilizzarlo in qualche maniera questa è stata la prima volta che ho utilizzato dopo l'ho riutilizzato altre volte finché non mi è precipitato in fondo a un fiume non so più che fine ha fatto però questa l'ho visualizzata e l'ho messa in pratica sì 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 quello specchio è finito in fondo a un fiume e questa cosa tra l'altro non la deve sapere mio padre perché ci teneva moltissimo quello specchio ora probabilmente lo saprà pensavo qualcosa di più simbolico comunque il tuo agente d'arte e questa è stata diciamo l'immagine che avevo in mente ma è molto difficile è stata molto difficile da mettere in pratica perché uno pensa alla situazione dall'inizio alla fine e poi non mette in conto il fatto che ah caspita però forse nel riflesso ci so anch'io quindi devi giocare veramente sui minimi le minimi millimetri di inclinazione dello specchio ci ho messo veramente tanto e tirava il vento e lo specchio non stava stabile e il mio amico si stava stufando quindi devo dire che ci ho messo parecchio se vai a vedere bene un pezzetto di me qua si vede però quello che rimane di sintesi delle immagini sì sì questa è stata quella non progettata se mi metto davanti una situazione ok non so quello che uscirà però per quanto nel mio immaginario so come la andrò a comporre e meno male sì so qual è il risultato che vorrò ottenere grazie perché sei una freccia davvero genuina grazie grazie